Siamo qui a Ceriale per un primo bilancio dei primi mesi di amministrazione, ma intanto una piccola premessa, quindi l'amministrazione funziona, gli uffici sono stati rinnovati in toto e questo è un primo obiettivo raggiunto, giusto Sindaco? Certamente, era uno dei primi obiettivi che c'eravamo posti già dalla campagna elettorale, un obiettivo che abbiamo raggiunto, abbiamo reintegrato tutte le vacanze che c'erano all'interno del personale della pianta organica, dal primo di gennaio non solo recupereremo tutti i posti vuoti che c'erano, ma addirittura andremo a incrementare almeno un paio di unità rispetto al passato per quanto riguarda il personale, certo. Dal punto di vista della polizia locale anche importanti novità e nuove forze, nuove uomini in arrivo? Sì, anche nel campo della polizia municipale abbiamo appena esplettato una mobilità che prenderà servizio dal primo di gennaio, un altro bando lo stiamo aprendo proprio in questi giorni, quindi considerando anche la stabilizzazione di uno stagionale che avevamo, quindi avremo in totale entro il mese di gennaio tre persone in più dal punto di vista dei vigili della polizia municipale. Importante anche per quel che riguarda il discorso sicurezza al quale quindi ci colleghiamo parlando un po' di opere incompiute e sulle quali però sono previsti interventi, penso al Torelli ma anche a altre aree. Facciamo un piccolo bilancio velocissimo. Allora, per quanto riguarda Torelli e dal punto di vista della sicurezza, era già stato messo in sicurezza e quindi non richiedeva ulteriori interventi, peraltro nel corso del 2019 noi riteniamo che ci sarà l'inizio del progetto che è stato predisposto, che prevede appunto la ricostruzione di quelle cubature. Per quanto riguarda la colonia veronese posso confermare che ho avuto assicurazioni da parte della provincia di Verone e degli altri proprietari dello stabile che probabilmente inizio gennaio appena passate le feste inizieranno i lavori di sistemazione di messa in sicurezza per evitare appunto che i locali abbandonati diventino luogo di raccolta per delinquenza più o meno di vario genere, quindi anche quello lo metteremo in sicurezza. Il problema più grosso rimane indubbiamente la T1, la famosa T1, sulla quale per estensione non è facile andare a fare controlli specifici giornalieri e quant'altro, quindi ci limitiamo purtroppo in collaborazione con le forze dell'ordine a fare quanto più possibile controlli saltuari, però non possiamo fare di più. Su questo però spero di avere inizio d'anno un incontro con il curatore fallimentare per capire anche a quale punto sia la situazione dell'area, se c'è prospettiva di una qualche soluzione o cosa potremmo fare, valutare… Se forse c'è un gruppo interessato… No, sono voci che girano, potrebbe esserci qualche gruppo interessato, però sono voci, quindi non è che posso dire niente di più, vedremo gli sviluppi. Sarà la perizia giudicare? Certo, non possiamo essere noi a intervenire più di tanto. Mentre già c'è una piscina. Esatto. Chiudiamo poi con una ultima domanda, tante opere pubbliche previste già per il 2019 con cifre anche importanti investite, ricordiamo magari le principali e una in particolare anche quella riguardante un parcheggio che è sempre un tema particolarmente sensibile, diciamo, soprattutto nel periodo turistico in un comune come quello di Ceriale. Certamente, noi partiremo… verranno cantierizzati già nei primi mesi dell'anno, probabilmente già da fine gennaio-febbraio, perché ormai i progetti sono stati approvati, le opere finanziate, quindi si tratta di farle gare per l'affidamento dei lavori. I principali sono appunto un parcheggio che è previsto, la sistemazione di un parcheggio che è già utilizzato attualmente, anche se in realtà in questo momento è uno sterrato che verrà sistemato quindi con un aumento dei posti auto disponibili che è appunto a ridosso del centro storico nella zona sotto, in via Cadanzo, sotto l'area cimiteriale. Un'altra opera importantissima che da anni si sta aspettando a Ceriale, è il marciapiede che verrà costruito sulla via romana.